Strage in un ristorante della Repubblica cieca. Un uomo armato è entrato nel locale nel centro di Ureski Brod, nell'est del paese, uccidendo almeno otto persone. Il ministro degli interni cieco ha reso noto che l'aggressore è stato ucciso durante l'intervento della polizia. La TV pubblica di Praga riferisce che una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L'assalitore, secondo il sindaco di Ureski Brod, era un uomo di 60 anni affetto da disturbi mentali e residente nella stessa città.